Buonasera a tutti, sono Francesco Guglielmi, sono un produttore biodinamico, o meglio un agricoltore biodinamico. Vengo da Perinaldo, questo paese che è ridosso di Sanremo, un paese che ha un territorio di 22 km quadrati. Ho la fortuna di essere anche il suo sindaco di questo paese. Ora, in parole povere, vorrei un po' spiegarvi come si produce, per esempio nella nostra produzione, il carciofo, che è un presidio solo food, è un carciofo che viene dalla Provenza, quando la Provenza era ancora nostra, diciamo così. È un carciofo senza spine e produrlo in modo biodinamico è importantissimo e i suoi gusti cambiano completamente. Ora, cos'è questa biodinamica? Per esempio nel nostro campo, è questo dolce connubio con la natura, che affascina. Io dico sempre ai cittadini, ai ragazzi che coinvolgo a coltivare, dico, sentite, dovete imparare ad amare la terra come se fosse parte di voi stessi. Questo, ecco, cosa vuol dire imparare, mi dicono loro, ad amare la terra come se fosse parte di noi stessi. Dico, guardate, la crosta terrestre è formata da un suolo, un sottosuolo, un strato attivo, uno strato inerte. Quello che si coltiva è il suolo, lo strato attivo, che ha una profondità all'incirca di 60-70 centimetri. Questa profondità è quella che rispecchia la natura, quella che rispecchia il sole, che rispecchia l'acqua, che rispecchia l'aria. In questo strato ci sta la fertilità, quindi voi dovete rispettarla, questa fertilità, perché la biodinamica sono i fiori, sono le api, e insegno loro a capire cosa vuol dire. Se c'è un'impollinazione, perché poi non coltiviamo solo carciofi, coltiviamo ortaggi e tante altre cose, se c'è un'impollinazione è quella entomofila, è quella dell'ape, ma se c'è il vento sarà un'impollinazione anemofila, è ad opera del vento. Quindi non credete che quando si coltivano gemmi in serra, questo vuol dire che siano tutelati, non è vero, perché le api entrano, vanno a bottinare e rovinano le coltivazioni di fuori. Il vento fa la stessa cosa. Allora, intanto un concetto di questo tipo, perché riescano a capire. Io li coinvolgo, e cosa vuol dire essere anche amministratori e avere questa fortuna, se vogliamo, vuol dire? Per l'Inghilterra è coperto per metà di questi 22,2 metri quadrati di ulivetti, è una parte boschiva. E il comune cosa fa? Cosa ha fatto da qualche anno? Ha fatto un'indagine conoscitiva per andare a rilevare quanti di questi ulivetti hanno ancora un proprietario. Il paese fa 900 abitanti, ma ne facevano molti di più, c'è stato un esodo. Quindi queste campagne sono state abbandonate nel tempo. Ora, vuol dire la possibilità di riconvertirli, perché non hanno più un proprietario. E se lo troviamo, catastalmente risale alla fine dell'Ottocento. Questo succede alle nostre parti. Ma non solo nel mio paese, ma in tutta l'introterra a Ponentino. Penso che anche, come Franco Roy conosce questa situazione, ed è questa. Chiamare questi ragazzi e dire, avete un appezzamento di 5.000 metri, che per noi è già importante, mezzo ettaro, perché sono tutte fasce, fascette. L'olivo è un albero miracoloso, è seco, lo capitoliamo, lo portiamo, due anni dopo produce. Ecco, allora vedo questi ragazzi che cominciano a affascinarsi a questa cosa, cominciano a chiedere, ma io posso avere un appassamento, cosa posso fare? E quindi è un ritorno vero a quello che erano i valori di un tempo della nostra zona. Noi viviamo solo ed esclusivamente di questo. Il fatto di coltivare i carciofi ed altri ortaggi è stato, come dire, un valore aggiunto. Ringrazio comunque in modo particolare Slow Food che ci ha dato un presidio che ci ha dato il modo di tutelare questa coltivazione. La tutela avviene sul fatto che era scomparso, stava scomparendo. Si poteva riprodurre molto velocemente, noi siamo otto produttori, eravamo dieci, due si sono scostati. Coltivandolo, riproponendo le piante, come si diceva un tempo, in gelatina, cioè producendone molte. Un amico carissimo che magari qualcuno di voi ne ha sentito parlare, un certo Libereso Guglielmi, che è un grande botanico, è un grande botanico, mi disse Francesco, guarda, se fai questo non mi salutarei più, non mi chiamarei più, perché lui era veramente... E mi dice, tu devi eseguire la divisione di ceppaia, come facevano 200 anni fa. Tu prendi le piante, le spacchi, fai dei pezzi, li ripianti. Probabilmente ce ne avrai anche 4-5 anni ad andare in produzione, però avrai una pianta fedele ed eccezionale, molto resistente ai parassiti. Poi insegnando questo però insegno anche, cerco di fargli capire anche l'educazione alimentare, che è quella della semplice massaia che va sul mercato e compra una mela golden gialla invece di comprare una mela rossa. Allora dico, attenzione, che la mela gialla subisce 16 trattamenti antichertogambici e antiparasitali. La mela rossa, sì, è vero, è farinosa, ma ne subisce solo 6, quindi voi mettete già da parte 10 trattamenti. Perché intanto non è che possiamo dire che tutti possono vivere a Perinaldo, sono quelli che non hanno la possibilità di coltivare e vanno a comprare sul supermercato. Ma quando voi comprate massaia la scarola, va benissimo perché la scarola contiene un lattice che è repellente per gli insetti. Però se voi comprate la lattuga vi accorgerete che quando la lavate è viscida, fa delle bollicine. Che cos'è questo? È una sostanza che danno per accespugliare la lattuga. anche se è approvato dal Ministero della Sanità, non è una caramella. Non è una caramella. Allora dico ai ragazzi, alle vostre mamme, dite queste cose, insegnategli. Il concetto dell'educazione alimentare viene proprio dalle basi della terra e si capisce solamente frequentando la terra e cercando di capire. Noi abbiamo una scuola e c'è un piccolo l'orto scolastico, poi l'orto in condotta, quello di Isola Food, no? Che senza fare tante statistiche, sì lo sappiamo che nel mondo c'è questo, c'è questo, sono grandi statistiche che ne parliamo tanto, però se non siamo noi a farci promotori di queste cose, i primi in piccolo, tutto quello che diciamo, lo continuiamo a dire e non risolviamo assolutamente niente, a mio avviso. I bambini, non della scuola, diciamo così, materna, ma quelli degli elementari, quando noi gli insegniamo a seminare, questi sono contentissimi, apprezzano e capiscono molto di più di chi ha vent'anni o trenta, e alla sera vanno in casa dalla mamma e dicono mamma, ma guarda, abbiamo seminato i piselli, ma non sono come quelli che sono diversi, e la mamma è contenta, al mattino dopo viene a scuola e dice sono felicissima che ci sia questa educazione alimentare, ma che deve partire dalla base, dai bambini deve partire, perché sono loro, il nostro futuro, sono loro che riusciranno domani se gli diamo l'opportunità, perché non è facile dare l'opportunità a coltivare, non è facile. Ora, penso che i comuni, dalle nostre parti, quello che sto facendo io lo stanno facendo quasi tutti, fare questa indagine per andare a rilevare i terreni coltivabili e darli in gestione, anche perché il terreno non ha un proprietario, il terreno c'è, è lì, e anche quando ha un proprietario, il tuo proprietario magari un giorno muore, il terreno rimane lì, e quando noi lo vediamo gerbido abbiamo iniziato a coltivare la lavanda, siamo diventati, penso anche a Badaluco, forse paesi della lavanda, perché ci mettiamo un po' a coltivare tante cose, perché non tutti possono, il terreno ha tante conformazioni, se un terreno è scoglioso, se un terreno è molto calcareo, il carciofo non ci lavora, quindi noi dobbiamo integrare con delle sostanze umiche, sicuramente, perché la biodinamica si basa su quello, e questi cominciano a capirlo, però voglio dirvi, e chiudo perché poi se si parla troppo di certe cose, voglio dire che nei paesi, nei piccoli paesi c'è ancora la possibilità di rinascere, di ricrescere. Io invito chi vuole venire nel mio paese a coltivare, avrà un petto di olivetto sicuramente, e avrà anche una casetta magari con un affitto calmierato, quindi questo vi lascio con questa proposta. Ringrazio Expo dei Popoli per avermi dato questa opportunità di parlare di Perinaldo in modo particolare, oltre che delle culture. Grazie a tutti.